Si è insediato questa mattina il nuovo presidente del Tribunale di Vasto. Si tratta del magistrato Michele Monteleone, originario di Foggia e con oltre 30 anni di esperienza, quest'ultimo in magistratura dal 1987 e arriva dal Tribunale di Benevento in cui era presidente della sezione civile. Il magistrato è stato giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari e presidente della Corte d'Assise del capoluogo pugliese nell'ambito di alcuni procedimenti di associazione sovversiva di stampo mafioso. Inoltre ha operato in città come Gravine e Monopoli e anche nel mondo accademico come a Lecce e a Bari. Nel giorno del suo insediamento Monteleone ha subito dato delle rassicurazioni sul futuro del Tribunale di Vasto e degli altri presidi abruzzesi minori che erano a rischio soppressione. Sembrano filtrate notizie di corridoio che nel prossimo Consiglio dei Ministri è al vaglio un decreto legge che possa comprendere la norma che per la geografia giudiziaria abruzzese tutti i tribunali dovrebbero per sempre rimanere definitivamente aperti. Aspettiamo il Governo e aspettiamo se questa decisione diventi effettivamente definitiva. Monteleone prende il posto di Bruno Gian Giacomo che aveva lasciato l'incarico nel gennaio del 2023 per trasferirsi a Roma dove è tuttora in servizio presso la Procura Generale della Corte d'Appello. Così dopo una vacazio di quasi un anno e mezzo il Tribunale di Vasto torna ad avere un presidente.